12esima medaglia azzurra alle Olimpiadi di Rio nel canottaggio bronzo importantissimo nel 2-0 per Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo che fanno squadra da appena un mese ma sono riusciti a salire sul podio dietro a Nuova Zelanda e Sudafrica respingendo l'attacco della Gran Bretagna. La gara di oggi non era affatto facile con il lago che si era presentato, in finale c'erano 6 barche e nessuno era lì per caso.